I corsi di gruppo in Amanitas Medical Care nascono da un'esigenza che abbiamo percepito nei nostri pazienti che vediamo negli ambulatori di fisioterapia, che è quella di avere un contesto sicuro nel quale fare un'attività fisica continuativa. Questo perché molti dei nostri pazienti hanno problematiche croniche o vicidivanti come l'artrosi, come il mal di schiena, per cui un'attività puntuale di educazione motoria che dura circa un mese non esaurisce il loro percorso riabilitativo. C'è bisogno di andare avanti a fare attività fisica in un contesto sicuro di mantenimento e il contesto collettivo permette anche di stare in un ambiente più piacevole dal punto di vista sociale e anche una soluzione economicamente più sostenibile. Il corso di gruppo non sostituisce l'educazione individuale. Quando un paziente ha una problematica acuta ha bisogno di essere seguito individualmente dal fisioterapista che deve concentrarsi sul suo caso per valutare quale sia il programma più adatto alle sue esigenze. Per esempio come fisioterapista io potrei trovarmi a trattare due pazienti che hanno entrambi mal di schiena, magari entrambi in una diagnosi di discopatia, ma che hanno una situazione diversa dal punto di vista funzionale. Un paziente magari è più rigido e quindi ha bisogno di fare più esercizi di stretching o magari di essere mobilizzato passivamente e un altro paziente invece ha bisogno di fare rinforzo muscolare, di lavorare sugli addominali, sui muscoli delle gambe. Quindi con loro individualmente lavorerò in maniera diversa. Quando però questi pazienti hanno finito la loro fase di riabilitazione, se voglio proporre un programma di mantenimento che nel caso della mal di schiena è assolutamente necessario, è probabile che proporrò degli esercizi comuni di fitness della schiena in senso generale, quindi sia di rinforzo che di allungamento. E quindi entrambi questi pazienti posso convergerli verso un corso dedicato, collettivo, nel quale appunto possono anche sperimentare un ambiente non più medico ma più di palestra. In Humanitas Medical Care i corsi di gruppo vengono tenuti da fisioterapisti che sono gli stessi che si occupano della riabilitazione nella fase intensiva. Quindi i nostri pazienti sperimentano un'importante sensazione di presa in carico perché il terapista che li ha seguiti durante la fisioterapia è lo stesso che li segue nel mantenimento e rimane un punto di riferimento. Inoltre abbiamo visto che tendenzialmente i pazienti si sentono più sicuri nel lavorare insieme ad un operatore sanitario perché spesso hanno patologie complesse e magari avrebbero paura di andare in palestra perché non si curi delle competenze degli operatori. Invece in questo contesto possono sentirsi sicuri anche di sperimentare un'attività fisica magari anche faticosa un pochino oltre il limite che immaginavano di avere e questo è molto importante per migliorare la propria performance motoria e anche per riguadagnare fiducia in se stessi.